Torna in presenza la Maratona di Solidarietà che raccoglie fondi a favore della ricerca per la 32esima edizione che coinvolge moltissime città d'Italia fino al 19 dicembre. All'Aquila sarà protagonista la danza proprio domenico 19 dicembre, partire dalle ore 16 presso il Ridotto del Teatro Comunale, con la danza in festa per Teleton. Lo spettacolo organizzato da Katia Salute raccoglie fondi per la ricerca contro la distrofia muscolare ed altre malattie genetiche con l'obiettivo anche di far passare un messaggio culturale di impegno e di aiuto alla ricerca come dovere civico. Sul palco si alterneranno i bambini della scuola della dottrina cristiana, preparati dalla maestra Katia Salute e Claudia Nappo, i ragazzi della scuola di Danza Revolution, guidati entusiasticamente da Paolo Lepidi, Alessia Pilolli e poi gli atleti della danza aerea, dello Sporting Play, con Ilenia Sciotti, Gratti, e Stefano Centi. Infine la ginnastica rittimica del club Sensazioni di Movimento di Roberta Ianna Morelli e le danze medio orientali con Media and Art. Insieme a Katia Salute presenterà la giornalista Angela Ciano, sponsor ufficiale della manifestazione e la Banca Nazionale del Lavoro, gruppo BNP Paribus, filiale dell'Aquila la cui direttrice Stefania Di Fiore ha aderito immediatamente all'iniziativa.